Allora ragazzi, Val di Fiemme 2013 Weekend di settembre, 4 gradi e si comincia Oh, questo è un bel rosso Sì, questo è un graffongo, finalmente uno, bello Dove le zone non sono battute Per me se vedo un cappello anche laggiù non sarà sicuramente un porcino, ma vabbè, andiamo a vedere Due le zone non sono battute E ci sono porcini di dimensione Questo è bellissimo, tra l'altro Freschissimo e bellissimo Bene Allora, poco sotto c'è questo Che è freschissimo Sopra ce n'era uno, purtroppo ormai vecchio Qua c'è la caloccia raviscosa Qui c'è il clitopulus prumulus Che avevo visto, sembrava di aver visto un cappello marrone Dopo Ma ragazzi, che bell'angolino che abbiamo trovato Sono salito adesso, mi sembra di aver visto un cappello marrone dall'alto Allora Questo dall'alto non l'avevo visto Eccolo qua E questo Ma che meraviglia Ragazzi, sono sempre nello stesso posto Non lasciate giù 6-7 perché Vecchi, ma io non ho mai visto una cosa così Cioè Dove ero stamattina non c'era un fungo Ma guardate qui Cioè nascono praticamente uova Qui Ma questo poi Questo lo raccogliamo A voi vi faccio vedere il prossimo Che è Magnifico Premesso che quello fianco non l'avevo visto Eh, però questi sono baccati un po' ora Ma io faccio vedere il prossimo che è una meraviglia Una meraviglia Qua e ragazzi cosa mi tocca vedere dopo praticamente un anno di estivenza mamma mia che roba, che roba partiamo con questo ok quello che ho visto è sicuramente quello meno bello una parte ancora si salva, va bene preparatevi perché adesso arriva il bello allora andiamo qui questo è letteralmente esplodio ma è freschissimo ok mi guardo tra i piedi ok mi sposto un attimo incredibile che posto guardate ho raccolto qui che ora vado a chiudere, non l'avevo visto non è che era proprio piccolo eh ma che meraviglia allora ragazzi vedete che siamo a fine giornata il posto nuovo ha regalato una marea di emozioni e ne ho voluto dare anche un'ultima vediamo come è messo se è ancora questo è bello però allora 14 settembre si ricomincia la ricerca ne ho visto uno adesso non so in che condizioni sia andiamo a vedere qua sotto l'abettino eh non freschissimo vediamo di salvarlo allora gli altri momenti oggi sono più scherzi certo penso che ci sia una zona di amanitri incredibile ma qui ce ne sono due uno sicuramente sarà da lasciar giù che è più in alto lì lì andiamo a vedere questo non credo si riesca a tirare su ah no c'è la foglia sopra sembrava peggio va bene questa invece è questa invece è di nascita e qui andiamo bene allora questo ieri l'avevamo dimenticato per strada probabilmente perché qui ci sono passato ci sono passato bene 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 Allora ragazzi siamo in una delle mie fungaie migliori, non c'è un fungo in tutto il bosco, stanno iniziando ad uscire uno qua che lasceremo giù, un altro qui, che bello è questo, dai dai che arriva